Matteo Coscia, è arrivato il rinnovo di Fabio Tito, era nell'aria, nonostante la distanza iniziale, però il calciatore è stato accontentato dalla società, contenta anche la piazza alla fine. Allora, siamo molto soddisfatti di questo rinnovo, era il nostro obiettivo legarci all'Avellino perché Fabio ha sempre messo questa maglia in cima ai suoi pensieri e siamo molto soddisfatti. Ci teniamo in particolar modo a ringraziare la società, la dirigenza, perché hanno contribuito fattivamente al raggiungimento di questo prolungamento. Ecco, un Fabio Tito molto amato anche dai tifosi, c'è stato grande affetto nei suoi confronti. Questo è stato sicuramente un fattore determinante ai fini del raggiungimento di questo prolungamento perché Fabio sente ormai questa maglia come una seconda pelle. La gente, lo avverto io quando vengo a vedere la partita allo stadio, lo apprezza molto perché è un calciatore che oltre a essere decisivo nelle fasi realizzative della squadra è un giocatore che esce sempre con la maglia sudata dal campo e quindi è l'emblema di quello che vogliono i tifosi, un giocatore combattivo disposto al sacrificio.